la cuffia dei rotatori è una patologia estremamente frequente è una patologia tendenzialmente più dell'over 60 anche se può colpire anche a 50 40 anni molto raro sotto i 30 che cos'è innanzitutto che cos'è la cuffia dei rotatori è un insieme di tendini l'insieme di questi quattro tendini i tre tendini extra rotatori 1 2 3 e il tendine intra rotatore ovviamente creano insieme di quali creano la cuffia dei rotatori tendenzialmente che cosa succede si può rompere uno o più tendini di queste di questa cuffia dei rotatori il più frequentemente interessato è il sovraspinoso che si può rompere distaccare dalla sua inserzione e retrarsi ovviamente questa è una qualcosa che avviene abbastanza frequentemente sopra i 70 sopra gli 80 ancora di più quando il tendine si retrae completamente non è più riparabile a quel punto devi dare un'indicazione di altra natura non più artroscopica quindi riparativa ma in alcuni casi ovviamente se il trattamento conservativo non va a buon fine anche di protesi di spalla la cuffia dei rotatori ha dei sintomi a volte anche molto significativi il paziente ha dolore di giorno e di notte paradossalmente a volte anche più di notte che di giorno e le cause possono essere molteplici come tutte le patologie ortopediche le cause sono multifattoriali ovviamente per la cuffia dei rotatori incide soprattutto la degenerazione quindi la tenditopatia calcifica e quindi l'età c'è anche una predisposizione alcune patologie metaboliche che possono influire sulla rottura ma tendenzialmente l'età è quella che di gran lunga incide di più tant'è che la cuffia dei rotatori ha una percentuale molto elevata nei pazienti over 70 tant'è che sotto i 50 estremamente raro tra i 60 e 70 incomincia ad avere una percentuale intorno al 25 per cento sopra i 70 schizza in alcuni studi anche oltre 50 quindi e sopra gli 80 addirittura abbondantemente oltre 50 in alcuni studi la diagnosi per le patologie della cuffia dei rotatori vengono sempre iniziate con un ovviamente la visita clinica l'anamnesi è importante quindi capire chi hai di fronte quindi da quanto ha dolore quando ha dolore come è sorto il dolore e l'età perché ovviamente se hai di fronte un paziente di 20 anni a meno che non 20 anni 30 anni a meno che non ha avuto un trauma molto importante e molte anche in questo caso è molto raro che abbia una rottura della cuffia dei rotatori invece se abbiamo di fronte un paziente over 60 over 70 ovviamente è più frequente gli uomini sono un po più colpiti la diagnosi quindi si inizia con una buona anamnesi poi con un esame radiografico perché è vero che non studia i tendini quindi i tessuti molli i tendini della cuffia dei rotatori ma bisogna escludere altre patologie ad esempio artrosi ad esempio calcificazioni o ad esempio altre patologie ancora più gravi poi il secondo step è tendenzialmente una risonanza magnetica una volta fatto appunto questa questa risonanza magnetica riesce ad avere un quadro completo e puoi parlare di lezione piuttosto che tendinite o altre cose l'intervento chirurgico della cuffia dei rotatori della lezione della cuffia dei rotatori tendenzialmente oggi si fa in artroscopia quindi con due tre piccoli accessi di pochi millimetri 5 6 8 millimetri ognuno di questi e si va con la telecamerina si vede il tendine e lo si ripara con un ancoraggio transosseo o comunque un ancoraggio con delle ancorine metalliche o non metalliche che vengono appunto a fanno accostare il tendine all'osso e ovviamente c'è un'immobilizzazione di qualche settimana due quattro settimane successivamente alle quali fisioterapia per uno due mesi in base anche al tipo di lesione l'ospedale israelitico è un'eccellenza in questo campo quindi sulla spalla e perché perché non lo diciamo noi ovviamente che potremmo essere di parte ce lo dicono i numeri sia a livello regionale sia a livello nazionale siamo tra i centri d'eccellenza che fa più spalla sia ancora di più a livello protesico ma sia a livello artroscopico anche quindi diciamo che essendo noi super settorializzati noi ortopedici facciamo quasi esclusivamente una cosa in tutti gli ambiti quindi ovviamente avendo la possibilità di super specializzarsi inevitabilmente riesci a ottenere un'eccellenza un po' diciamo così più alta rispetto alle altre strutture tra le buone pratiche che bisogna sempre consigliare al paziente è quella appunto di non sentire l'amico l'amica che ti dicono hai questo piuttosto perché sembra strano ma è assolutamente molto frequente che ti viene in ambulatorio un paziente e ti dice mi hanno detto che ho una lesione che potrei avere una lesione della cuffia dei rotatori piuttosto che altre cose altre consigli o comunque miti da sfatare sono quelle che la spalla spesso fa più male di giorno che di notte invece tendenzialmente fa un po' più male di notte e poi non c'è un dolore specifico per ogni patologia di spalla la spalla tendenzialmente da dolore anteriore o laterale e comunque alla spalla un'altra cosa che ti va a escludere un problema di spalla quando il dolore si radia tutto il braccio compresa la mano un'altra cosa che ti va a escludere un problema di spalla è quando c'è un dolore a livello del trapezio perché moltissimi pazienti ti vengono ho un dolore di spalla la domanda poi del medico è che cosa intende lei per spalla e banalmente loro ti dicono un dolore ti indicano qua quindi questa zona qua trapezio quasi mai se non proprio mai è un problema di spalla se non in forma indiretta è un problema di spalla